Se hai sintomi sospetti rimani in casa e contatta il tuo medico di famiglia o per i bambini il pediatra. Loro valuteranno se richiedere un tampone diagnostico. Se sei positivo al tampone è necessario isolarsi dai conviventi utilizzando una sola stanza e contattare subito il medico di famiglia per comunicare la propria positività. I familiari devono assicurarsi che la persona in isolamento riposi, beva molti liquidi e assuma pasti sani oltre che osservare tutte le possibili precauzioni igieniche. Ricorda che l'isolamento va osservato dalle persone positive fino alla loro avvenuta guarigione certificata da test negativo mentre la quarantena è una limitazione allo spostamento da casa che osservano le persone sane. Per garantire ai cittadini la migliore risposta al covid-19 abbiamo bisogno di ogni marchigiano. Rispetta sempre le regole di comportamento e informati sul sito e sui canali social della Regione Marche.